Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video E oggi siamo qui con l'estrazione dello sfilante per il 14esimo Pink Sleep di Team of the Season Martinez Sul mio canale, come vedete in totale i commenti sono 142 Le ho già ripuliti, spostiamoci su random.org Scriviamo 142 e generiamo il numero Numero 3, non ci credo Quindi visto che la volta scorsa sono partito dal fondo partirò dalla parte sopra Quindi 1, 2 e 3 E domenico buona massa, Fallen Angel 93 Sarà il mio sfidante per Team of the Season Martinez Vediamo dunque la squadra JZ Forever Valutazione 81, stesa con un 4-1-2-1-2 In attacco Aya, Kone e Remy Dietro Casorla, Ashley Young, Ben Arfa, Diaby, Baines, David Luiz, Company, Mika Richards e Cech Importa una BPL davvero molto solida con molti giocatori buggati Tra cui Young, Kone e Remy che lo conosco bene Speriamo bene, in palio ci sarà Team of the Season Martinez Giocherò in casa sua visto che abbiamo avuto problemi con la connessione Saremo al Camp Nou se non ricordo male Vediamo un attimo lo stall... no sta piovendo, non ci credo Sarà ancora più dura perché c'è la pioggia in palio Team of the Season Martinez Se riusciremo a vincere questo Pink Slips, Team of the Season Martinez sarà messo in giveaway Speriamo bene, sarà una battaglia nella pioggia Incredibile subito qui la mia squadra perde palla Richards, un buon recupero di Nainggolan Buona palla nel mezzo Può arrivarci Radu Aspetto il movimento di El Sharawi El Sharawi, El Sharawi, no! Cosa ha preso Cech? Non ci credo, voglio rivederlo Vediamo Radu Bellissimo tiro di El Sharawi ma non è possibile che cosa ha preso Avremo un calcio d'angolo dentro le torri Smucchio selvaggio, palla fuori Resta lì per Quadrado Quadrado, Quadrado palo, clamoroso Non è possibile, che sfortuna Deve fare sponda per il compagno Grandissimo Guarin, è partito Guarin Guarin si allarga sulla fascia Aspetta il movimento dei compagni in mezzo Palla dentro per Ibarbo, fuori Cosa ha mangiato Ibarbo? Palla per Remy Serve con E Dentro per Remy Esci, Marchetti, no! E va a segno l'avversario Al trentatresimo Con Loic, Remy Buona ripartenza dell'avversario Gol sbagliato Gol subito Al trentatresimo Remy E siamo sotto Fuori, dai, El Sharawi Resta lì per Ben Arfa Una skills di Ben Arfa Prova il tiro! Guarin per Martinez Martinez ancora per Guarin Guarin può puntare la porta Guarin balla dentro Ma no, cosa sta succedendo? Incredibile Rete Rete Che fortuna Jackson Martinez Al quarantacinquesimo Vamos Jackson Martinez Un po' di fortuna Però gol È finito il primo tempo Vediamo le statistiche di questo primo tempo Con gol di Loic Remy E Jackson Martinez Al quarantacinquesimo Vediamo come si è messi Lui ha fatto molti più tiri In porta di me Cinque, cinque Io tre e due in porta Andiamo col secondo tempo Ashley Young È da solo Serve in mezzo Con E Con E viene fermato Con E ancora Con E non è possibile Eh ma non si riesce a fermare Sto giocatore Al cinquantatresimo Siamo sotto Tutto di nuovo Martinez Scambia con i Barbo Sponda di Barbo Buona per Martinez Martinez è da solo Palo ancora Non è possibile Benalfa Benalfa La mette dentro Santi Casorla No E cecchino Santi Casorla Settantaseiesimo 3 a 1 Ripartenza Abbiamo preso gol Di nuovo Barbo Serve dentro Martinez 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 3 a 2 Possiamo ancora crederci È un po' tardi È l'ottantatresimo Però ci dobbiamo provare Fino in fondo La rilancia No Termina qui Questa partita Complimento al mio avversario Che ha vinto 3 a 2 Si aggiudica Team of the season Martinez Che gli andremo a dare Io sfortunatamente Settimana prossima Dal 24 al 30 Non ci sarò Tornerò sabato Proviamo ad arrivare A 100 mi piace Così appena tornerò Vi farò subito Il pink slip Di international Man of the match Alexis Sanchez Che vale più o meno Sugli 800 mila credit Detto questo Ciao a tutti ragazzi Al prossimo video Ciao a tutti Grazie a tutti.